12 anni di felice matrimonio uniti da uno straordinario amore per il lusso puntualmente sborsavo fior di quattrini per quegli oggetti con quei cartellini lunghi 30 cm pensavamo di essere felici ma dopo l'arrivo dei Cottingham tutto cambiò dobbiamo inventarci qualcosa eh sì ma cosa mi ritrovai davanti a un barbone che manava un fetore pestilenziale i Cottingham si fecero fotografare dalla governante intenti a donare al barbone un euro dobbiamo diventare persone generose abbiamo donato due euro al fondo per la lotta all'emicranea natale significa dare finché fa male grazie a tutti